La procura di Brescia contesto una grave serie di reati al 37enne di origini senegalesi che nella notte tra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre a Ospitaletto ha sfondato la porta di casa dei vicini, una famiglia di origini pakistane, aggredendoli e ferendo alla spalla con un coltello il figlio sedicenne della coppia. L'uomo era stato condotto in caserma dei carabinieri e quindi era stato necessario ricoverarlo al civile in psichiatria dove è tuttora ricoverato e piantonato. Il magistrato ha chiesto per lui non appena lo consentiranno le sue condizioni di salute la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Chiari, i 37enne incensurato attorno alle 4 del mattino armato di coltello con lama da 30 centimetri avrebbe sfondato la porta dei vicini scagliandosi contro il ragazzino ferito alla spalla, cercando poi di aggredire gli altri componenti della famiglia di origine pakistana che sono riusciti a baricarsi in una stanza in attesa dell'intervento dei carabinieri che nel frattempo erano stati allertati dal 112, numero unico di emergenza. Solo da pulare i motivi del gesto violento ma da quanto già emerso il 37enne sarebbe affetto da problemi di natura psichica. Ora per lui le accuse si fanno pesanti. Tentato omicidio, violazione di domicilio, lesione personale aggravata, minaccia grave e violenza privata aggravata.